Se non andiamo avanti perché ora è il momento del miglior libero di questo periodo We're going with the best liberal, best liberal is the miglior libero e aiutandoci voi, Monica! Grazie a tutti! Il premio al miglior libero sarà consegnato dal Capo Magri, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Questo libro sarà un po' di presenti da Mr. Capo Magri, Presidente dell'Italia Pallavolo, Frederick Sheff Grazie a tutti!